Valiamo da 15 anni, è una cosa che diciamo ci è sempre piaciuta. Abbiamo iniziato così, per passione, sinché poi ci ha appassionato parecchio, esatto, e abbiamo appunto voluto approfondire e farne il suo lavoro. Abbiamo una scuola di ballo a Preghera in Sardegna, si chiama Dance Project, io sono Giuseppe. Io sono Giorgia. E niente, abbiamo aperto da poco e arriviamo appunto a prenderci anche il diploma di Bacetta Fusion. Allora, dal punto di vista lavorativo, ci ha aiutato a perfezionare e scoprire veramente la storia della Bacetta e di tutti quanti gli altri, cioè anche questo aspetto di passi e didattica. È molto completa, non sia noi prima persona, ma anche a livello lavorativo. Quindi io lo consiglierei, veramente. È un bellissimo progetto. Voi non siete i segretari, cercate di tenervi una segretaria. Magari siete all'inizio, io non so se voi avete già la segreteria, avete la pasta segretaria, se fate tutto voi, come... Nelle nostre mamme. Ecco, però ci stiamo anche noi. Hanno supportato sia tramite chiamate, sia tramite Whatsapp. Ci abbiamo avuto? Tramite Whatsapp. Esatto. Perché noi abbiamo partecipato poco alle chiamate di Whatsapp. Sì, non potevamo. Prima di buttarti così nel vuoto, cerca di andare ad approfondire certi... Io direi studia. Certi discorsi. Non fermarti, ce ne investi perché ne vai. Consiglierei questo percorso a tutti gli insegnanti che vorrebbero appunto approfondire nel campo Bacia Tafuno. Perché penso che sia uno dei percorsi più completi, servono culturale che a livello di pratica e di figure, tutto quello che comprende proprio ti serve tutto. Grazie a tutti.